Amici, oggi torniamo in una favola e lo facciamo per farci gli auguri di Buon Natale. Iniziamo! Amici, bentornati sul canale, bentornati su Recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm, microfono nuovo perché quello di prima, nella puntata precedente lo avrete visto, è morto mentre registravo, quindi speriamo che questo sia il giusto rodaggio per lui, altrimenti sto unguaiato. Detto questo, oggi ci facciamo gli auguri di Buon Natale, per chi crede di un santo Natale e di un felice anno nuovo, anche se in anticipo, e lo facciamo con una puntata creata su un vostro suggerimento perché vi avevo chiesto su Instagram di farmi sapere quale film avrei potuto vedere appunto per commentarlo assieme e farci appunto gli auguri. E mi avete suggerito Pinucchio di Guglielmo del Toro, quindi questo anche se possiamo dire inizialmente non sembra per le tematiche trattate, per l'ambientazione in cui questo film gira viene inserito, non sembra per niente un film natalizio, ma il tema di fondo, quello della famiglia e dell'amore, possiamo dire che rientra benissimo, o almeno uno dei temi di fondo perché ce ne ha tanti, rientra benissimo in questa atmosfera natalizia. Ogni anno io registro avanti all'albero, questa volta non l'ho potuto fare perché è da un anno e più che mi lamento degli operai qui attorno che fanno rumore, gli operai ce li ho in casa, quindi in realtà questo video lo avrei dovuto girare ieri, ma non è stato possibile perché stavano rompendo tutto e non posso andare di là perché di là c'è una bolgia infernale e quindi ci dobbiamo tenere questa set qui per niente natalizio, con me che non ho niente di natalizio perché non abbiamo preso gli arredi, quelli cappelli soliti, questo che ho usato è un coperchio di un babbo natale fatto di scatole e mia madre ha avuto anche il coraggio di dirmi che ci sto bene. Parliamo di Pinocchio, va che è meglio. Questo Pinocchio è un film d'animazione diverso da quello che abbiamo visto originario della Disney ed è uscito su Netflix il 9 dicembre 2022, quindi freschissimo, anche se però poi in alcuni cinema è apparso il 4 dicembre. Abbiamo detto che il regista è Guglielmo del Toro, anche se in realtà il suo lavoro è partito nel 2008, però purtroppo ha avuto una serie di rallentamenti e di impedimenti tali, riferibili al budget richiesto, che lo hanno praticamente fermato e il progetto sembrava essersi arenato completamente, finché proprio per la bellezza di quello che era stato studiato e messo su da Guglielmo del Toro, Netflix nel 2017 entra in campo e nel 2018 si decide quindi di ripartire con questo progetto. Ci vogliono tanti soldi, ci sono voluti tanti soldi perché Guglielmo del Toro ha deciso che questo film dovesse essere girato tutto in stop motion, quindi la tecnica che prevede di vedere scatti che vengono poi dopo messi in sequenza e che quindi riproducono il movimento di bamboline e di tutto quello che diventa sostanzialmente protagonista avanti alla telecamera, che siano quindi i personaggi ma anche gli sfondi e il set che viene quindi creato. Una tecnica veramente molto complicata e complessa ma ha una bellezza incredibile. E la storia però non dobbiamo immaginarcela come quella appunto di Pinocchio della Disney perché la storia se ne allontana tantissimo e anche se abbiamo parlato ultimamente di Mastro Geppetto, di Stassi per il premio Napoli, anche quello ovviamente lontanissimo dall'ambientazione originaria di Collodi, non possiamo immaginarcelo questo film ancora ambientato in quel granducato di fine ottocento, granducato toscano di Firenze di fine ottocento, proprio perché come Stassi anche del Toro proietta questo personaggio, questa ambientazione avanti nel tempo facendolo ricadere nell'epoca fascista italiana. Ormai la politica è ovunque in questo canale, quindi mettiamoci una pietra sopra. L'ambientazione è forse la caratteristica che più fa storcere il naso quando entriamo in contatto con una storia del genere, perché perdiamo praticamente in questo contrasto fortissimo con l'epoca fascista tutta l'ambientazione caratteristica di questa favola, quindi tutta la bellezza, la tenerezza, tutto quello che in pratica la Disney ci ha insegnato ad apprezzare, ma anche quello che stesso Collodi ci ha trascritto nelle sue storie. Ma possiamo dire che questo è un film che si basa molto sui contrasti e sono dei contrasti che ci fanno veramente tanto apprezzare questo prodotto di Del Toro, che risulta essere quindi un film veramente molto bello da vedere. Non solo per il fascino estetico, e lo vediamo dopo, ma anche proprio perché è la storia che funziona in maniera completamente diversa. E infatti è l'inizio a essere completamente diverso, perché Mastro Geppetto aveva un figlio di nome Carlo che proprio a causa del fascismo e delle guerre che si stavano combattendo nei cieli d'Italia muore sotto un bombardamento. Da quel momento tutta la bellezza di questo personaggio di Mastro Geppetto va a cadere, perché diventa sempre più succube di una spirale discendente che lo allontana dalla società che fino a quel momento lo aveva osannato come buon padre e come un ottimo falegname, allontanandosi da questa società, da quel paese in cui in pratica viveva, disperso nel suo dolore e distrutto dalla perdita del figlio. Decide quindi di costruire una marionetta affinché possa vivere questa, possiamo dire, feticcio, questa strana relazione con il figlio attraverso proprio la marionetta. Uno spirito del bosco vede tutta questa sofferenza e decide che quella marionetta deve prendere vita per essere una compagnia costante per Geppetto e non fargli quindi sentire la mancanza del figlio. È così che quindi nasce Pinocchio. Abbiamo quindi superato il 1916, siamo ormai avanti oltre il 1920, ed è questa sostanzialmente la cornice nella quale questa storia viene ambientata, una cornice in cui tante sono le allegorie e i simbolismi che funzionano, che vengono quindi utilizzati. Uno fra tanti, forse quello più immediato all'occhio, è il grillo Sebastian, non più quindi grillo parlante, ma grillo Sebastian, scrittore, che vive addirittura all'interno del torace di Pinocchio, che non è quindi più solo voce della coscienza, ma vivendo proprio al posto del cuore, è come se fosse quella sua voce umana, come se fosse quel tentativo di umanizzare questo ciocco di legno. Ed è anche un film che parla attraverso il musical, perché soprattutto Pinocchio, a dire la verità, è quello che canta di più in questo film. E si esibisce cantando, non sa il significato delle parole, ma canta. In realtà sono scene che mettono un po' a disagio, perché quando il canto viene tradotto in italiano e non sempre va a sync con la bocca, una bocca che comunque non è umana, a me disturba sempre un po'. Ma essere sincero è la bellezza proprio di questi momenti, di queste scene, perché nel momento in cui lui si esibisce c'è un passaggio in avanti nel tempo. Vediamo quindi la relazione che inizia a formarsi, a stabilirsi tra lui e Geppetto, ma anche le situazioni che Pinocchio è costretto a vivere una volta che si allontana dal padre. Perché, come abbiamo visto con Lodi, come abbiamo visto la Disney, come abbiamo visto Stassi, anche qui Pinocchio è costretto ad allontanarsi da Geppetto. Ed è anche questa una storia fatta di viaggi, ma sono ben due i viaggi che vengono raccontati, come abbiamo visto ultimamente. Il primo ovviamente è quello di Pinocchio, che è deciso a salvare il padre, a dimostrargli che può essere anche lui un degno figlio e non solo l'immagine di un figlio che non c'è più e quindi vissuta anche con un certo rimpianto e una certa malinconia, decide di allontanarsi e di vivere quindi una certa notorietà, una certa fama, anche per aiutare economicamente il padre. E allo stesso tempo, dall'altro lato, Geppetto, con l'età che ormai ha, decide di fare anche lui un viaggio perché finalmente sta iniziando a capire che il figlio non è più solo Carlo, ma è anche Pinocchio, che come Carlo anche lui ha bisogno, nonostante sia una marionetta, di tutto l'affetto di cui è capace Geppetto stesso. Anche qui, nel viaggio, il filone narrativo dato al fascismo è alquanto presente e potente, non solo a livello di ambientazione, quindi anche possiamo dire come vengono caratterizzate le scene e gli ambienti, quindi i set nei quali si muovono queste bamboline, ma anche proprio per come la società è raccontata e quindi tutta l'ideologia che viene trascinata all'interno di questa pellicola. E la cosa stranissima è che viene raccontato persino Mussolini e la cosa ancora più brutta che ho visto in questo film, ma è funzionale, è il fatto che ci sono delle scene in cui questa ideologia, questa mentalità, questo fanatismo politico viene praticamente osannato, persino attraverso il canto, attraverso le parate, il comportamento dei personaggi, sono tutte cose che lasciano molto con un punto interrogativo, o meglio un punto esclamativo, di stucco, non si sa come commentarle, perché in un film d'animazione vedere appunto esaltata un'ideologia che per nostra legge non è possibile esaltare, mi fa veramente molto strano, ma come entra, proprio per il fatto dei contrasti, come entra in scena Mussolini, tutta questa osannare, tutto questo mettere in risalto praticamente muore e decade ed è la cosa stupenda perché Mussolini viene rappresentato come un anerottolo, una cosa brutta da vedere, con una voce che lo mette in una condizione tutt'altro che di primo piano, tutt'altro che caratterizzato come se appunto fosse quel dittatore, quel capo che nella storia è stato, facendogli perdere tutta l'autorivolezza, l'autorità e quindi tutta quella presenza scenica che aveva e che si vede nei filmati, e la cosa è meravigliosa, soprattutto poi per come viene trattato, sostanzialmente da quando entra in scena, che noi lo pensiamo al culmine del potere forte, fiero, invece viene smontato in pochissimo tempo e la cosa è meravigliosa. Gli viene dato sostanzialmente il posto che gli aspetta e questa cosa vista in un film d'animazione è tanta tanta roba e questo è uno degli elementi che mi fa pensare che magari questo film non è proprio per i bambini ma se lo vedono anche i bambini male non è. E proprio perché non è tanto per bambini qui c'è un tema che viene trattato tantissimo che è il tema della morte. Sostanzialmente, già ve lo dissi in passato, la morte non viene mai raccontata ai bambini perché i bambini devono tenere i paraocchi, non devono vedere, non devono entrare in contatto con la morte stessa. Non si sa per quale motivo visto che fa parte della vita, visto che chi crede e chi non crede lo sa benissimo che prima o poi si muore, però evidentemente nella cultura moderna la morte è quello spauracchio che meno o meglio più tardi c'entri in contatto meglio è. E invece qui viene raccontata in maniera completamente diversa. Viene raccontata in modo tale che persino i personaggi protagonisti iniziano a morire o arrivano anche loro alla fine della vita con una morte naturale, ma l'unico a non morire inizialmente è proprio Pinocchio che non essendo umano apre così a una mitologia e quindi a un impianto mitologico che possiamo dire è ben caratteristico di Guglielmo del Toro perché lo vediamo delineare quindi una serie di fantasie, quindi un mondo fantasy che alle volte mi ricorda molto o mi ha ricordato molto il labirinto del fauno come ambientazione. Vediamo quindi delle creature che regolano o meglio controllano e stanno lì affinché le regole ultraterrene di vita e morte vengano rispettate e portate avanti e Pinocchio è all'interno di una specie di regola che non gli permette di morire se non arriva a un sacrificio particolare di se stesso. Storia questa che ci dà una profondità veramente fantastica, bellissima, possiamo dire molto particolare perché appunto prende il tema della morte e lo trasforma, gli dà possiamo dire un aspetto diverso, nuovo, che ci permette quindi di vederla in modo diverso, lontano invece da quello visto inizialmente dal lato più cristiano religioso perché appunto inizialmente le scene nella chiesa e del papà che costruisce il crocifisso ci indirizzavano invece in un'ambientazione più realistica, più veritiera e invece poi veniamo trascinati in un mondo completamente diverso ma veramente tanto tanto funzionale e possiamo dire anche molto coerente perché ci sono delle regole, non ci vengono raccontate e spiegate tutte ovviamente, ma sono delle regole importanti che regolano appunto anche stesso la trama e creano le occasioni e le opportunità con cui quindi questa si possa sviluppare e Pinocchio fa parte di questo, possiamo dire, passaggio di questo flusso di eventi. È quella nota magica che inizialmente non sembra apparire nel film non solo perché l'ambientazione è quella storica dell'Italia dei primi anni venti del novecento ma anche proprio perché sembrava tutto caratterialmente caratterizzato anzi in un mondo realistico e invece la nota di magia viene inserita piano piano a piccole pennellate ed è una cosa molto affascinante devo dire e questa forse è proprio una delle note caratteristiche della regia di Guglielmo del Toro che io apprezzo di più. Però appunto è un film di contrasti, contrasti che si vedono benissimo anche in quelle che sono le relazioni umane, quindi al di là della caratterizzazione dell'ambiente, della storia e del contesto storico, sono proprio le relazioni umane che diventano protagoniste in alcune scene nelle quali si vede quindi come ci si rapporta l'uno con l'altro anche padre e figlio e allo stesso modo quindi questo padre e questo figlio in relazione con Pinocchio perché appunto vediamo una relazione completamente diversa tra Pinocchio e Lucifero che viene studiata sotto aspetti nuovi, quel cameratismo, quell'essere amici in maniera differente con quella rigidità ereditata dal padre e quindi anche dal contesto fascista a dispetto invece di quella bonarietà, di quella bontà che è di Pinocchio che non conoscendo gli schemi sociali e quindi tutto quello che è precostruito dall'uomo, quest'impalcatura che non si tiene in piedi, lui ne è lontano e quindi riesce a percepire in maniera diversa le persone e anche a comportarsi nelle relazioni in maniera differente e le scene con Lucifero sono veramente emblematiche di tutto questo. Questi contrasti ovviamente vengono portati non solo nella narrazione degli eventi ma anche nella narrazione per immagini, ci troviamo avanti quindi a una fotografia che spesso e volentieri illumina tutto proprio con contrasti di luce e ombre potentissime, fortissime, mostrandoci scenari quasi possiamo dire spogli, crudi e allo stesso tempo potenti in quello che raccontano, molto evocativi, ma anche stesso il modo con il quale le bamboline dello stop motion vengono costruite e realizzate ha un qualcosa che in un modo o nell'altro ci ricorda questo contrasto perché ad esempio tutti i personaggi sembrano molto più rigidi e molto più legnosi ad esempio di Pinocchio. Prendiamo ad esempio già solo la barba di Mastro Geppetto che nei movimenti, nei sobalzi, in tutto quello che succede rimane rigida, praticamente fa giusto qualche movimento ma è fissa, intagliata, veramente statuaria. Mentre Pinocchio dall'altro lato è un personaggio molto dinamico, molto movimentato, molto fluido rispetto a quello che invece è la controparte umana, che uno si aspetta dinamismo dalla parte di carne e ossa e una certa rigidità invece nella parte di legno e tutto questo viene ribaltato, almeno questa è la mia impressione. Per di più gli occhi sembrano essere delle sfere, gli occhi e le palpebre, inserite all'interno della scatola cranica dei personaggi, un po' alla bambola assassina e questa cosa mi strania un po' inizialmente perché rende i personaggi poco credibili, poco affascinanti, ma il contrasto con Pinocchio devo dire che funziona benissimo perché lui ovviamente non ha degli occhi sferici ma intagliati nel legno e sono molto più comunicativi alle volte degli occhi degli esseri umani. Insomma anche se avevo delle ritrosie a voler vedere questo film perché voi lo sapete io ho evitato di vedere quanto più possibile le trasposizioni dal mondo Disney dei film classici, dei cartoni animati classici. Alcuni li ho dovuti vedere per Emma Watson e altri ovviamente per queste cose qua ma tendo a non volerli vedere per non rovinare la bellezza del mio ricordo da bambino. Però devo ringraziarvi perché è un film molto particolare che se inizialmente ha una sua certa lentezza per entrare nelle cose, dall'altro lato è stesso anche il modo con il quale si muove e si comporta Pinocchio questa freschezza di una vita nuova che entra subito in funzione, diciamo così, ci coinvolge veramente tanto e quindi ci permette anche di vedere e di rivalutare tanti modi nostri di fare, di comportarci, di relazionarci. Tanti quindi sono gli spunti che sicuramente escono da una pellicola del genere ma tanti sono anche quelli che non ho trattato come al solito perché io voglio sempre lanciarvi un po' in là e permettervi e permettere anche a me di vedere punti di vista diversi. Quindi io vi ho detto la mia, quello che mi ha affascinato di più, quello che mi ha convinto di meno, ma dall'altro lato aspetto poi ovviamente voi nei commenti qui sotto ditemi cosa vi è piaciuto, qual è la caratterizzazione che più ha funzionato secondo voi, quella che meno invece vi ha convinto o anche stesso il modo con il quale sono state creati i personaggi, con quello che hanno vissuto, se magari vi aspettavate una fedeltà maggiore o completamente lontana dalla storia di Collodi e dalla storia della Disney o se invece non vi siete avvicinati al film senza nessuna aspettativa e quello che avete visto vi è piaciuto e vi sta bene così. Ditemelo ovviamente nei commenti qui sotto, vi aspetto e ovviamente, visto le mie malette che ci sto bene, vi faccio ancora i miei più cari auguri di un buon felice e sereno e soprattutto santo Natale e di un buon buonissimo anno nuovo. E come sempre questo era il video del Natale anche se in maniera diversa e ci vediamo spero con l'ultima puntata del 2022 con il free comic book day del 2022 appunto. Vi aspetto, non dimenticatevi di me, non mangiate troppo o mangiate tanto alla faccia mia e noi ci vediamo poi l'anno nuovo. Vi lascio quindi con i miei più tanti e cari auguri. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanella al lato per ricevere le notifiche di pubblicazione, ma fate visita soprattutto a www.rei-accenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram il salotto dei recenziani. Io sono Dario, questa è Recenso e noi ci vediamo venerdì prossimo con una prossima puntata sempre qui sempre su Recenso pronti a sfogliare nuove storie e volare insieme nel mondo della fantasia.